Chiara Ferragni, terzo occhio senza filtro il trucco Leone e Vittoria esagerato, buongiorno così. Chiara Ferragni questa mattina, lunedì 27 febbraio, si è risvegliata con il viso ricoperto da una miriade di adesivi. L'influencer è apparsa su Instagram raggiante e sorridente con accanto i suoi bambini, Leone e Vittoria. Nei giorni scorsi Chiara è stata molto impegnata con la settimana della moda di Milano, ha partecipato a moltissime sfilate e a numerosi eventi dove è stata immortalata con vari outfit che hanno già fatto tendenza sui social. Chiara Ferragni, come ogni mamma, ha sempre detto che la gioia più grande della sua vita sono i suoi bambini Leone e Vittoria. I suoi figli questa mattina hanno deciso di truccare la mamma in un modo un po' diverso dal solito. Chiara si fa infatti, un video selfie in cui dice, buongiorno così, non è un filtro sono gli sticker di Leone e Vitto e sorride. Sul suo viso ci sono diversi paia di occhiali da sole, cuoricini e un piccolo occhio. Queste settimane per Chiara Ferragni sono state molto caotiche anche a livello emotivo. L'influenceri infatti, non ha passato un bel periodo con il marito Fedez, i due hanno attraversato un momento di crisi subito dopo il festival di Sanremo. Nei giorni scorsi il rapper aveva pubblicato varie storie un po' misteriose citando versi delle sue canzoni e poi... è arrivato lo scatto di Chiara che teneva per mano il marito. La foto ha lasciato intendere che la coppia avesse superato la crisi. La foto ha lasciato un po' misteri. La foto ha lasciato un po' misteri.